Ma che tanti mi fanno? Io pure di impazzire Dai che rispettiamo Dio mio C'è qualche spirito qui? Se c'è qualche entità qua dentro puoi illuminare lo strumento? Dio mio Magari Cazzo Dio mio Magari Cazzo Mi chiedi spesso di nuovo subito questa volta Cazzo Cristo Vuoi passare di nuovo davanti al sensore? Se è passato di qua In questo momento è qua vicino a noi Ma per le bocca madre Ma per le bocca Ma per le bocca No Chi? Prima ho sentito Prima ho sentito Ero qua davanti al K2 A te? Adesso? No Adesso non ho sentito niente Ah ok Non vuol dire che se... Non vuol dire che se non lo sento tu non lo puoi sentire Cazzo 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 Silenzio Cos'è Cri? Ma non scherzare ma che cazzo è? Dove? Era a strisciare qualcosa Si esatto Sembrava a strisciare qualcosa Ci sta un amore laggiù? Un sorriso sentito? Ma stai così sta manifestando? Ti stai manifestando? Sì Sì Subito Stai arrivando qua? Allora A me non piace giocare E scherzare Ti devi manifestare E non ci stai a fare i giorni a prenderci in giro Ha detto? Vero? Il tuo nome? Vuoi ridire il nome di Cristiano? Cosa vuoi che facciamo? Cosa vuoi che facciamo? Cosa vuoi che facciamo? Cosa vuoi che facciamo? Cosa vuoi sentito? Cosa vuoi che facciamo? Cosa vuoi? Oh! Oh! Sei un uomo? Sei una donna? ci vedi? stai vedendo noi? si mi ha detto sai dire ci un piano stiamo adesso? in che anno stiamo? l'hai visto? si è mossa la telecamera non lo so come se qualcuno me la fosse spostata così stai inquadrando non so come spiegarlo ha fatto tipo così sai in che anno stiamo? ce lo puoi dire? pazzesco il piano 6 sentito Cree? ho sentito il piano 6 a me è sempre sembrato una persona che rimane senza respiro che si inghiozza che arantola ma se il momento forse è vivo poi piaceremo via forse la comunicazione che puzza non so come se non è sempre anche il punto del cos'è tanto no entra ok ho visioni cose pesanti di nuovo cosa fa di più qua? cosa fa di più in questa stanza? no ti ho visto un po' la luce 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 è stato spento fino adesso non ha fatto bene non ha fatto bene l'ho sentito il solello vero? cosa? questo suono il federale cazzo calva strolla luce cazzo alla work oh porca tromba cazzo dizzi marino carino ecc come hai fatto accendere il cieloitti non lo so si accende solo se è passata qualcosa di umano o non lo so qualcosa che è passata ++ il sensore. Lo puoi anche far cadere? Tu devi accenderlo. Lo puoi far cadere? Puoi accenderlo di nuovo per piacere? Tu l'hai ripreso bene quando sei accenduto. Io l'ho successo e l'ho girato, non ho visto il momento in cui si accenderà proprio. Io ero qua. Sì. Dove eri qua? Non so, non so cosa... non so cosa dirlo davvero. Io però io devo capire perché mi sembra... via. Io voglio capire perché anni fa... qua ho trovato il mio nome. Lo voglio capire. Ce lo devi dire. Perché qua c'era il mio nome e perché l'ho trovato io. Ti ordino di dirlo. È un ordine. Ha detto qualcosa. Ha detto qualcosa, non capisco cosa. fuori. Fuori. Mi sembra fuori. Ci pensi che cosa dobbiamo fare? Ci richiede che cosa dobbiamo fare. Ci dici che sei who. E fai illuminare il sensore di movimento. mi sembra che ci sbostiamo. Mi sembra che ci sbostiamo. Mi sembra che cosa dobbiamo fare. Mi sembra che ci sbostiamo. È un'altra parte di questo. Sbostiamo. E un'altra parte di questo. È un'altra parte di questo. Ma bene, siamo giocati su tutti i cittadini, non ci spostiamo. Sì, perché se poi continuo a consigliere, non ci spostiamo. In questo momento c'è poca connessione con il tuo sforzo. Prendo anche se... Ho visto qualcosa, tipo una figura bianca muoversi da giù. Ma l'ho visto velocissimo tipo vum, spostarsi là dentro andando verso... Ci sono queste cose nell'aria qua dentro. Vedi che non sono un pochino, eh? Vedi anche te. Ma bene, non lo so sicuro. Proviamo ad andare là, però senza accendere il busbox. Guardiamo se... Lasciamo il sensore qua, prendiamo su quel K2. Che dici, Matteo? Facciamo il sensore qua, eh? E io là ho visto una roba che poi si spostava in là a sinistra. Sì. Per questo è cosa devi rinconnertare quel posto. Eh... Ma, Matteo. Eh, mi fai spaventare. Ho visto una figura qua. Dove sei? Matteo. Eccolo. C'è. L'ho visto... E' come se si nascondesse di là. Mmm... Non lo so, Matteo. Qua. Raga, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, mettete like e soprattutto condividetelo. Oh. E di cosa sei strano, te, vero? No. Però ti senti strano. No. Perché sei strano, Matteo? Puoi essere a te. Sei pari strano. Sei molto strano.